Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui col bolide ma nemmeno oggi lo uso perché l'ho già fatto funzionare abbastanza ieri, sono andato a ritirare delle piante. Oggi devo solo prendere i guanti. Come vedete lì, spero si veda bene, sì. Ho delle piante con un po' di sabbia, le ho messe un attimo in tagliola, tra virgolette. Sto continuando a mettere di mora delle piante per nuovi fruttetti, come ho fatto vedere nello scorso video e adesso andiamo insieme a vedere tutto quanto. Allora dunque, come dicevo prima, nello scorso video vi ho fatto vedere questo campo dove c'era mio padre alle prese con il komatsu e la trivella, stava facendo i buchi per queste piante che ho messo giù ieri. Non ricordo se avevo specificato, erano 240 piante su quattro file di pero, varietà Santa Maria, qui il cartellino, ma tanto non si leggerà mai. Su portinnesto BA29, è un metro e mezzo sulla fila, quattro metri tra le file. Non si nota più, ma stamattina mi sono svegliato vedendo dalla finestra un mega nebbione. Il che va bene perché io, ieri pomeriggio quando iniziava a venire buio, ho lasciato qui le piante, ho evitato di riportarmi a casa. E quindi sono state fuori all'umidità ed è stato meglio che averle lasciate sul carro. Quindi sono belle umide, bagnate, come è giusto che sia. Quello che volevo farvi vedere in questo video è la facilità con cui riesco a mettere giù queste piante anche senza badile. Perché nello scorso video ho detto che io le piante le metto giù a badile, sbadilando la terra, più fine meglio si fa. Invece in questo caso così, tranquillamente. Svede già, ho gli stivali perché io riempio la buca, in questo caso, solo con le scarpe, in questo modo. La terra è diventata talmente fine, per me è una novità, perché qui non piove da un po' di tempo, effettivamente. Sono almeno due settimane, ora non ricordo, che non piove. Oggi è l'11 febbraio, scusate. Ed è un po' che non piove, effettivamente. Il che mi ha aiutato con la messa a dimora di queste piante. Ora, molto probabilmente potrebbero comparire i soliti espertoni, i soliti criticoni, che ci sono sempre in qualsiasi tipo di video. Soprattutto nei miei vecchi video agricoli c'erano, che diranno che non si fa così, che la buca tonda così non va bene, servirebbe una buca più grande. Ragazzi, io al momento la trevella non ce l'ho, quella che ho è in prestito. Non vi ho fatto vedere come erano le radici prima, perché le piante comunque sono belle grandi, belle vigorose, quindi avevano un apparato radicale ben sviluppato. Io ovviamente ho tagliato molto, in modo poi da permettere alle radici di svilupparsi di nuovo e soprattutto per fare in modo che le radici stiano nella buca. Quindi come dicevo prima, arriveranno probabilmente gli espertoni che diranno, no ma non si fa così, si fa così, si fa così. Poi tanto comunque non c'è gran problema, perché i miei video recenti non è che li vediate in molti, quindi... Di esperti ce ne saranno ben pochi. Ragionandoci un po' su, è vero, sono belli i video agricoli in cui si vedono flotte di trattori, 200-300 cavalli e oltre, macchinari super tecnologici che lavorano con un'estrema precisione, livelle laser, GPS di qua, GPS di là, non è il mio caso. Ma si evince anche un po', direi, dai macchinari che ho e tutto quanto, insomma. La mia è una realtà piccola, un'azienda veramente molto piccola, che sto sistemando pian piano, sperando poi di riuscire col tempo a ricavarci, insomma, un po' di soldi per vivere, perché alla fine è questo, l'obiettivo principale di una persona. Ecco, forse fra tre o quattro anni, se ancora farò video su questo canale, non lo so, potrò mettere dei video fighi, di particolari lavorazioni, beh, non proprio in realtà, perché... Comunque nel frutteto le lavorazioni non sono mai belle come nei campi aperti, con le trebbiature, le trinciature, o arrature con macchine enormi, niente di che. Però, chissà, comunque, qualcosa di carino verrà fuori, più che ora, ecco. Tra i pochi che seguono questo canale, forse c'è qualcuno che segue di Italian Farmer, il Giuliano, come si chiama lui stesso, qui su YouTube, che, diciamo, cioè, fa video agricoli anche lui, una GoPro, molti, anzi, sono praticamente tutti dei POV, perché comunque utilizza la GoPro in questo modo, molto bello, parla molto anche lui, è molto più preparato di me, ha un'azienda migliore della mia, ha delle macchine migliori delle mie, insomma, tutta una serie di cose, è una realtà diversa la sua. Magari, se qualcuno lo conosce, potrebbe aver notato che, per questi miei ultimi video recenti, di questo mio ritorno, sicuramente un po' ho preso spunto, dal Giuliano, nel fare i video. Cioè, nel senso, l'action cam attaccata in testa, attaccata al petto, come in questo caso, la lavorazione di un certo tipo, con il commento, ovviamente, si spiega quello che si sta facendo, si fanno commenti, insomma, si parla sul video, sulla lavorazione, è normale. No, lo dico perché non vorrei mai essere preso in causa come copione, o chissà cosa, insomma, io prendo spunto. Ora, certamente, tornando al discorso di prima, appunto, in un frutteto, che video vuoi che faccio? Ho comprato un drone, di recente, e ogni tanto lo uso, l'ho usato per una ratura. Innanzitutto, vabbè, il drone aveva su la camera standard, che è un cesso, proprio un cesso, e quindi anche col drone posso fare riprese molto migliori, con questa camera, l'ho fatta, e ne farò una anche oggi per questo video, tra l'altro, lo anticipo già, giusto per cambiare un po' anche il tenore del video, altrimenti diventa noioso. Eh? Che meraviglia! Prima ero più o meno là, a metà, adesso non so nemmeno se si vede bene, che ovviamente vedo da uno schermino microscopico, ho finito la metà di questa fila, c'è qualche pianta leggermente storta, devo dire la verità, cercherò di portarvi all'interno dell'azienda con me, ripeto, non un'azienda molto entusiasmante, però almeno si cerca di farsi un po' compagnia, in un certo senso. Niente, io vi saluto, vi lascio alle mie due ripresine col drone, spero vengano bene, spero di non potare una pianta con le eliche del drone, e niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501